Rimuoviamo il catetere epidurale. Mettiamolo sotto PCA. Riuscirà ad autosomministrarsi gli antidolorifici? Pronto? Ma no, figurati. Possiamo fare come vuoi. Dottor Schepper? Sì. Quello che decidi tu va sempre bene. D'accordo, ciao. Dottor Schepper Jack. Dammi il tuo cellulare. Come? Perché? Voglio controllarlo, adesso. Guarda dove ti trovi, guardati attorno. Ti prego. Ok, dammi il cellulare. Questo non è il posto adatto per discutere. Lei deve essere Jack. Perché non prende una sedia e si unisce a noi? Ma chi è? Non lo so. Non l'ho mai vista. Lei? Lei mi conosce? Sì. Suo padre ci ha raccontato tutto di lei. Ah sì? E che vi ha detto di me? Che gli hai raccontato, papà? Che tuo figlio non ha mai avuto grinta? Non quanto il suo vecchio? Che non sono stato capace di gestire niente? La mia vita? Il mio lavoro? Il mio matrimonio? Che gli hai detto del mio matrimonio, eh? Sa come funziona il suo matrimonio? Una bottiglia di scoccia al giorno prima di cena. Sono 50 giorni che suo padre non beve. Ne siamo molto orgogliosi. Accidenti, papà. Mi chiedo che cosa ti abbia spinto a cambiare. Magari è merito di una nuova amichetta. Potrebbe essere... Che ne dici? Non ti permetto di parlare così. Ma io non ti permetterò di andare a letto con mia moglie. Oh, Jack. Jack. Sono tuo padre. Jack, ti prego, lascia stare! Oh, Jack.